Noi troviamo in occasioni come queste davvero delle opportunità importanti, importanti perché rispetto alla lezione frontale i ragazzi hanno la possibilità di approcciarsi con temi di estrema complessità ma che diventano per loro incredibilmente abbordabili. I testi affrontati sono spesso testi molto impegnativi ma il livello, la qualità degli interpreti è assolutamente tale per cui benché si tratti spesso di monologhi, non è la prima volta, l'attenzione è veramente emozionante e quindi crea l'evento già solo sentire tanti ragazzi così incredibilmente assorti, attenti e desiderosi al tempo stesso di interagire, lo si è visto anche dal gran numero di domande che sono state poste, il che significa che effettivamente alcune corde sono state toccate ed è credo l'obiettivo e il risultato più grande che ci si possa auspicare di raggiungere.